Signori bentornati in un nuovo episodio di ARC Nell'ultimo episodio abbiamo preso un paio di animali Tipo il trigeratopo, tipo altre robe Ma io in vostra assenza, come sempre, tra iardo e sudomale E ho preso altri animali Che adesso vi vorrei far vedere Il problema, da parte che ho fatto qualche miglioramento a casa Il problema è che non ho una cazzo di luce Madonna, molesto, mi ha trovato un cazzo di fucile d'assalto E monto la torcia sul fucile d'assalto Facendo così dovrei avere, eccola qua La lucina tattica Purtroppo non abbiamo i colpi Non abbiamo un cazzo Vi faccio vedere alcuni animali che ho recuperato da poco E infatti presi con le capsule ancora si devono svegliare Un allosauro qui contro, cazzi Come potete vedere il livello 224 è una femmina Poi ho preso uno stegosauro, un anchilosauro, un porco, un altro mewing E niente, oggi, ah è il mio grifone Dove cazzo è il mio grifone Poi se non sbaglio uno di voi nei commenti mi ha detto Chiama la papera malefica E quindi, ah e poi guarda cosa ho costruito Guardate qua Signori vi do il benvenuto Nella mia area animali Come potete vedere Metto tutti gli animali qui Con grandi Vabbè, se fate caso Ho preso pure un drago spinoso Intanto qua cambia nome In effetti sembra una papera Quindi ci sta Cambia nome Papera malefica Eccolo qua Papera malefica Poi mi avete consigliato di chiamare il coso che ho in spalla Dalton Una roba del genere Se non ricordo male Quindi direi di cambiare nome Ma sempre che sbaglio Opzioni Cambia nome Dalton Perfetto Fatto questo Io devo mangiare Faccio un po' di rifornimento di armatura E dopodichè partiamo in un lungo viaggio Di una spedizione molto importante Che dovremmo andare a fare Qua c'è Molesto Molesto Buon tonno Buon tonno Guardalo lì con quale stile Faro vedi eh Sebra Il mio ferro mi punti Vabbè ringrazia che non ho i colpi Allora io mi direi di prendermi Le risorse Perché adesso io è Molesto Partiremo per un lungo viaggio Andare a raccogliere Quel coso che volava E che abbiamo visto qualche episodio fa Vediamo In ogni caso Molesto Quanti like devono lasciare Almeno 50 Se lo prendiamo Se lo prendiamo Almeno 50 Vai Vai 50 mi piace raga Fate 5 50 ho detto Molesto Il mio è 5 Fate 5 voi Ma si è arrivata a 50 Che è ben ben Va bene Posso tutto sti minchiate E sono pronto io Tra l'altro c'ho tutto il mio loot Che se non sbaglio ieri Jackson mi ha fatto esplodere Con una granata Figlio di puttana Ti serve farlo L'hai notato Dopo che abbiamo fatto 96.286 proiettili No? Sì perché ne ho fatti Altri 96.000 Porca puttana bro Servono i tardi Per quella bestia Hai ragione Io qualcuno Forse ce l'ho Allora Ecco qua ci sono 15 tardi Che sono i tuoi Io già i miei me li sono presi Allora mi sistemo l'inventario Che sono pieno di minchiate Ma qua c'è un mirino laser Che cazzo l'ha messo Un mirino laser qui Bellissimo Me l'ho fotto Poso le ultime due cose Fibra Metto la mia armatura Che non è completa Ma sti gran cazzi Ma quanto bordello fa Una fornace accesa Allora Per fare le crocchette Qua subentra Tutto il lavoro Che tu non fai mai Ecco qua si vede In questi casi Si nota Che cazzo faccio io In questi casi Allora Per fare le crocchette In teoria Dovremmo andare In questo punto qui Perché le crocchette Danno dei bonus Agli animali addomesticati Cioè comunque Ti dai il bonus di livello Allora per esempio Qui Cibi creati Ecco E ci sono tanti tipi di crocchette Vedi questa qui È una crocchetta Potenziata straordinaria Per esempio Che è la più forte crocchetta Ci vuole fibra Miele Montone cotto Uovo di dinosauro Di grandezza grande Presumo Quindi tipo un uovo di bronto Oppure possiamo fare questa qui Dove ci vuole il pesce crudo pregiato Addirittura polvere di elemento Fiore raro Vedi noi dobbiamo Perché alcuni vogliono tipo Le patate Le carote Per questo io Qua nella serra Ho coltivato ste robe qua Per esempio Qui ho le patate Queste sono le carote Queste sono tutte bacche nere Ho piantato patate Solo che qua Ci vuole il porco Ed è qui che subentra La mia ricerca del porco Infatti io l'ho appena preso Adesso crafto una sella del porco Che ci vuole Posso tra l'altro Tutti questi materiali nel banco Così un po' lo teniamo Finalmente Questo porco Avrà il suo ruolo In questo campo Il porco Si dovrà mettere Posizionato col culo qui E l'utilità di questo animale Apparentemente inutile Perché in realtà È inutile La sua utilità È molto semplice Prendiamo le bacche bianche Minchia Solo 106 In teoria il bronto Doveva essere pieno di bacche Ecco 900 A posto Più di 1000 No che poi le bacche Si mi pare che servono Per fare le crocchette di merda Però quelle lì E comunque sono buone Ma è sempre meglio usare Le crocchette Che altre robe Tipo Perfetto Se mettiamo le bacche bianche Al nostro porco Che non si chiama porco Tra l'altro Perché si chiama 4W Sarà io che ho sbagliato Lui è sempre porco Raga Ufficiale Una volta fatto questo Gli mettiamo Le bacche bianche E facendogli mangiare C'è molesto Che raccoglierà merda Perché mi dà una mano Vedete Chili e chili di merda Tu mettiti abbassato Così mi rimeglio Perfetto Guarda Eccolo lì E facciamo il giro Fin quando finiamo Questo non è fertilizzato Però nell'ultimo Mettine uno per pianta Ecco Finalmente che vai a coltivare patate Tu Succa È tutto registrato Tutto registrato Guardalo lì Ho creato una fontana Zona animale Gli animali ancora Dobbiamo sistemarli meglio Ho preso un paio di bariò Oh si è svegliato Mamma mia Questa è una bestia Mamma mia Sei bello Guardalo lì Con quanto stile Vediamo se qua si sta svegliando Lo stegosauro Mi serviva per il legno E l'anchilo per il ferro Se Jackson non si prende Sti animali E se li sposta a casa sua Questa è la casa di Jackson Sembra una nave druccata Questa è una viverna di veleno Ci siamo dati da fare Chi ha preso la viverna? Tu C'è io Io ho sempre preso Quella di veleno? Tutta 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 Io le ho preso Tu non ne hai mai presa La viverna Quanto hai di danno Sto giro? 3 60 Ah Scusa Ti stavo caricando Poi Ho realizzato Ho realizzato Che era più forte Allora qua c'è un'altra roba Va bene Io mangio Ma io ho mille di carne cotta A presto Ma che sono pat Allora prendiamo il grifone Cazzo è Franco L'hai chiamato? È mia Franco Perfetto Dove cazzo è Aladin? Non mi dire che ho perso il grifone Ah quella è la mia coggetta Guardala lì Con quanta Quanta fierezza Guardala lì Non mi dire che è quello Guarda Aladin Che cazzo ci fai qua Questa è zona riservata Agli animali di merda Tu non sei un animale di merda Amica ho fatto una strage Pure col col codrillo O un megalodonte da schiudere Tante roba Tante roba Bene La missione di oggi Carissima Molesto È prendere un animale Che si trova nelle nevi Ed è un qualcosa di strano E non so come cazzo Si addomestica tra l'altro Quindi andremo un po' a caso Dobbiamo provare a narcotizzarlo E vedere cosa ci fa Vabbè sicuramente carne Però il problema è Se si addomestica così Capito Magari ci vuole Ma ti immagini ci vuole La polvere di elemento Dato che è mezzo tech Sto avendo questo dubbio Vai male che vada Se uccidiamo un tech Ne dintorni Qualcosa la procuriamo O male che va Nel dubbio Vai di crocchette Allora abbiamo 20.000 selle di mammut Non sarebbe male Prendere un mammut Ma me le sono portate le capsule Sì godo Rinoceronte la nio Prima prezziamo Alla nostra missione Alla priorità Vediamo se ne vediamo Uno La stamina Madonna stamina Una spada ascendente Oddio ma ce l'abbiamo davanti Bro Che livello è? Porca puttana 130 Fatto un colpo Sì ma se lo uccidono bro Non è meglio che liberiamo Tutti sti animali Dai paragidi Tipo 20.000 rinoceronti Prima Provo a eliminare Tutti sti bordelli Ehi Minchia come carica Il rinoceronte Basta Vado impicchiata tutta la vita Dove cazzo sono? Oddio quello cazzo Oddio è sopra di me Oddio Oh Bro mi ha congelato in aria No Ma è OP 29 secondi immobile Ma stiamo scherzando No lo voglio bro C'è lì un bordello Rinoceronte di merda Dai Argentavis Dammi una mano Ma porco di quel cane bastardo Figlio di un rinoceronte Con Con le corna Ma no con le corna Perché è un rinoceronte normale Con le corna Perché è figlio dei butti Ma cazzo fai a non vedere un animale del genere Sly? Veramente l'abbiamo preso? Certo che sì Minchia non lo vedevo Ma dove cazzo sei? Qua più avanti Eh No Perché? Carne non ne hai? Sì sì Carne se no Eh prova la carne Sì ma io non voglio capire Tipo dove sei Tanto per iniziare Un solito che l'ho visto era qui Ma Ma allora è un altro Ma che cazzo hai preso? Cosa ho preso io? Che livello è questo? Non dirmi che ho perso tempo con un Allora ne ho un altro io qui Ma non so che livello è Mamma mia E non riesco a vederlo sto coso A prescindere dal suo livello Aspetta Dai Minchia ma chissà si afferra con quelle re No si è litigato contro No no ti prego Non rompe i cogli Come sta scappando? Dov'è? Ah sì ok Sì aspetta si si plana Si plana Si è lì a terra Madonna Preso Preso Si è addormentato? Oh ok Non so che cazzo di livello è L'ho fatto a prescindere 145 Ma che culo Eh Dovrei averla un po' Ho fatto un po' Una strage con il grifone Si smettili tutto Ti prego alzati Ma Ma mangia Ah ma si ma What? È nostro? Si come lo vuoi mal chiamare? Ma chiamalo sti cazzi C'è il grifone qua bro Madonna Mi muore il mammut C'è mi muore il grifone cazzo Ok l'ho addormentato A caso Ci sto capendo un cazzo Ma Si può sapere perché non si ferma? Ah ma io non sono so Ma chi cazzo è Franco? Madonna Aspetta Ma l'hai chiamato sti cazzi Vieni qua dai Ritorniamo a casa velocemente Ah vero Porca puttana Vieni qua Sti cazzi Guarda che vita di merda Il mio si chiama mannaggia No No Di nuovo Ma il tuo padre Nato da un buco del culo No Ho fatto incazzare pure un orso Ok Stai fermo Non mi attaccate più Porca puttana Vola Mamma mia Sudatissimo Però è una missione compiuta Bro Minca a Zexon Rossicherà Minca a 130 145 Guarda quant'è veloce il grifone Mamma mia Vola E siamo a casa Allora A parte che io ho sempre fame Però il mio grifone Ne ha subiti di colpi Allora io ti aumento Un altro po' La velocità Iniziamo ad aumentare Peso E vita Dammi Queste robe qui Che poi le poso Te lascio la carne Ok Diamo il benvenuto A sti cazzi Maschio o femmina Ma ti immagini Abbiamo scolato così La mia è una femmina Il mio è un maschio Mamma mia Perfetto Ma quanto è figo Ma cos'è Non lo so Tipo un felino Sembra dalla faccia Equipaggio una sella Come cazzo ti chiami Managmar Madonna Sella per il managmar Ma non costa un cazzo E' regalata Praticamente sta sella Minchia Siamo senza fibra Poi vado con i gorilla Ah qua Managmar Se gli manca la chitina Beh tanto li la dovevo mettere Tiene sto craftando due Vabbè Minchia il tuo è un maschio Quindi livello 195 Entrambi Li abbiamo presi Cioè questi se si accol- No vabbè raga No questo è Guarda che bello Quando gli fai il level up bro Sembra tipo giocherellone Ma questo è un animale Da combattimento bro What No bro Mettili la sella per cortesia Ti prego Guida quest'animale Perché Da notare A parte che è velocissimo Ma poi fa un tipo Un salto Che penso si può caricare E poi Puoi o riatterrare Oppure deviarti tipo così Saltare con il click E andare No vabbè Fa un mare di cose E va sott'acqua Minchia però ho finito la stamina E che non ha vigore di niente Mamma mia Ma fa un mare di cose Mamma mia Ma quanto è veloce a colpire Guarda Montante Montante Mamma mia Questo ci aiuterà Secondo me a prendere A prenderci il coso bro Il gig Non so magari lo congeliamo Con C Fai pure questo attacco Qua Non attacca più Ma non attacca Mi sa sott'acqua Ok Questo animale qua L'acqua è da evitare Guarda quanto montante Guarda con quanto stile Peccato soltanto per la stamina Perché comunque Qualsiasi cosa fa Tu ci stai riuscendo Ad entrare nelle mura Oddio Ok Sono a casa Mi devo abituare A guidare Sto roba Mamma mia Ma poi tipo è mezzo Che ne so Mezzo tech Mezzo Fantastico Fantastico 5 punti abilità Io metterei 3 al vigore 2 al danno E niente Che dire Signori Io Vi saluto Per questo episodio Con i nostri Fantastici Che non so come cazzo Si chiamano Scegliete voi il nome Nei commenti E ci vediamo In un prossimo episodio Di Archi Dal mio Dalton E tutto E andate a fare in culo Ciao bene via